Niente Non serve vedere per vivere, bisogna fermarsi e osservare per poi, capire e comprendere e poi ti ritroverai. Ma non aver niente da perdere perché tutto quello che guadagnerai è solamente dentro di te perché niente è la ricchezza che coltiverai. Ho abbracciato il mondo e ho capito che niente, niente, valicato molti e compreso che niente, niente, respirato sale e ho capito che... Quando hai vent'anni ti senti un eroe e non comprendi il valore che hai, se ti rispetti poi ti ritroverai. La vera ricchezza di un uomo non è il successo e il denaro ma è vivere, nella tua anima troverai la risposta a tutto quello che tu chiederai. Ho girato il mondo e ho capito che niente, niente, navigato fiumi e compreso che niente, niente, respirato sale e ho capito che... Quando hai trent'anni capisci chi sei e poi comprendi il valore che hai, se ti rispetti poi ti ritroverai. La vera ricchezza di un uomo non è il successo e il denaro ma è vivere, nella tua anima troverai la risposta a tutto quello che tu chiederai. Ho girato il mondo e ho capito che niente, niente, navigato fiumi e compreso che niente, niente, respirato sale e ho capito che... Ho girato il mondo e ho capito che... Ho girato il mondo e ho capito che... Ho girato il mondo e ho capito che... Grazie a tutti.